Detmatch a squadre Annientate chiunque vi separi davanti Stiamo vincendo Stai in terra Servai un mino Stai in terra 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 U2 alleato in arrivo Approfigionamenti pronti per la consegna Indicateci la destinazione R6 di nemico rilevato in zona Approfigionamenti pronti per la consegna Indicateci la destinazione U2 nemico in volo Approfigionamenti pronti per la consegna Disegnate il punto di lancio Approfigionamenti alleati in avvicinamento U2 alleato in arrivo Approfigionamenti nemici in avvicinamento RC-XD pronto all'uso Attenti RC-XD nemico individuato RC-XD alleato in arrivo SR-71 nemico in volo Il nostro SR-71 è in volo Cobra in avvicinamento Bombardamento in palmi in corso Approfigionamenti alleati in arrivo U2 nemico in arrivo U2 disponibile Il nostro U2 è in volo Il nostro U2 è in volo La vittoria è vicina Continuate a lottare Approfigionamenti pronti per la consegna Disegnate il punto di lancio U2 alleato in arrivo U2 alleato in arrivo U2 nemico in arrivo RC-XD nemico rilevato in zona Approfigionamenti pronti per la consegna Indicateci la destinazione Ottimo lavoro compagni Abbiamo vinto Approfigionamenti pronti per la consegna Approfigionamenti pronti per la consegna